Squadra che vince non si cambia, un adagio che va bene anche in politica e nella fattispecie per la giunta comunale di Napoli. Il sindaco Luigi De Magistris, proclamato ufficialmente ieri mattina, ha confermato poche ore fa nel corso di un incontro con la stampa la squadra di assessori che l'ha affiancato negli ultimi due anni e mezzo della passata consigliatura. Nella giornata di ieri, quindi dando assoluta continuità amministrativa, ho confermato gli assessori che facevano parte della giunta sino a prima dell'inizio della campagna elettorale. Quindi l'intera squadra, compresi gli assessori Clemente e Borrillo che si erano dimessi. Ho fatto questo atto immediatamente senza avere nemmeno un giorno di interruzione perché dobbiamo garantire piena continuità amministrativa alla città. I problemi, le opportunità, gli impegni, le occasioni, le sofferenze, le difficoltà sono tantissime. Quindi non ci potevamo permettere nemmeno una settimana di tempo in cui non si lavorava a pieno regime. Resta fermo quello che ho detto l'altra volta, la priorità è l'insediamento del Consiglio Comunale, l'approvazione del bilancio e la continuazione delle consultazioni che ho messo in campo per valutare se questa poi sarà la giunta che proseguirà oppure se ci sarà qualche cambiamento che metteremo in campo nei prossimi giorni. Per ora questa è la giunta che per quanto mi riguarda la massima e totale fiducia. Il sindaco si dice pronto e carico per affrontare i prossimi cinque anni del suo secondo mandato e invita tutti a impegnarsi per il bene della città, assicurando poi una ripresa del dialogo con il Governo e la Regione Campania. Parte oggi. Parte oggi. Una lettera al Presidente del Consiglio Matteo Renzi e una lettera al Presidente della Regione Vincenzo De Luca. Nella quale... Chiedo un incontro. Un incontro separato, chiaramente. Un incontro al Presidente del Consiglio e un incontro al Presidente della Regione. Chiedo un incontro urgente per parlare delle questioni di Napoli. Tra l'altro.